Ho un astuccio che contiene due mazzetti di carte, uno a dorso rosso e uno a dorso blu. Mettiamo uno qui e l'altro qui. E questo lo leviamo, non ci serve. Allora, i due mazzetti contengono entrambi i quattro re, quindi cuori, quadri, fiori e picche. Va bene? Io ho già fatto una previsione, già so quali sono i re che tu sceglierai. Dimmene uno nero, anzi uno rosso facciamo, quindi o cuori o quadri. Cuori. Cuori. Dimmene un altro nero, quindi o fiori o picche. Fiori. Ok. La mia previsione è esatta. Hai scelto cuori e hai scelto fiori. Sì. Guarda. In questo mazzetto di re, l'unico girava la faccia in alto è il cuori che tu hai scelto. E in quest'altro, l'unico girava la faccia in alto è il fiore, quello che tu hai scelto. È incredibile, no? È incredibile. Ma ero certo che tu avresti scelto questi re. Infatti, in questo mazzetto io ho messo il re che tu hai scelto a dorso rosso e questo qui a dorso blu. No. Eh? Fantastico. Ma ero talmente certo che avresti scelto questi due re che ho detto, cogli altri, che ci faccio? E infatti, sono tutte carte bianche. No, va bene. Tutte bianche. Grazie. Grazie.